salve a tutti amici schietti e benvenuti nella nuova puntata di le collisioni di ppnew allora ve lo ricordate che volevo trovare gli ovetti sonic nel post delle collisioni di ppnew su facebook si eccoli qua e li abbiamo sempre trovati agli aerospin ma prima la zainix hanno fatto anche ovetti sui videogiochi hanno fatto anche la serie di super mario nella zainix hanno fatto una serie di ovetti caramelle dolciumi della serie super mario va bene oggi vedremo la serie ovetti zainix di sonic te e gioc guarda che sonic tre ovetti di cioccolato a latte una su tre e trovi anche una sabbia di sonic gluten free gli ovetti costano un euro e 49 nelle catene euro spinner li potete trovare gli ovetti di sonic e qua nelle sorprese di sonic può trovare sonic il personaggio 3d sonic e qua abbiamo codation io voglio il personaggio 3d di te se lo voglio e anche il personaggio 3d di metal sonic eccolo e poi ci sono anche quelli specie di tensi c'è di emmy rose sonic d'oro teis knuckles e qua potete trovare ovetti al cioccolato a latte e al bianco con la sorpresa all'interno gli ho comprato i due alliero spin non vi dico dove li ho presi ogni lunedì mi prendo due al posto di kiner joe di fanco anche i kiner joe di fanco li sto collezionando li sto cercando di collezionare tutti di super mario non c'erano le stagnole allora le stagnole sono tre stagnole abbiamo di sonic ecco di tails e di knuckles guardate sonic age of non è sonic boom comunque il personaggio di sticks guardate il prodotto da zaini guardate per la catena di supermercati euro spin ecco questo è sonic e due knuckles e le altre li apro se volete la stagnole vedete la stagnole di sticks o facciamo nel prossimo video abbiamo trovato la stagnole di sonic e knuckles va bene apriamo le sorprese abbiamo trovato subito una sorpresa di sonic commette i golden igre e non apro prima le sorprese di sonic vediamo com'è il cioccolato buono poteva trovare durante i sonic queste sorprese prima nelle sorprese degli ovetti dei popator potevano trovare le sorprese degli incredibili e adesso nelle altre sorprese dei popator film e quelle dell'anno scorso non abbiamo trovato nulla gli ovetti sonic li potete trovare nelle catene euro spin fino ad aprile maggio ma al posto delle ovetti di coso dove sono applicati altri sorprese ci sono queste altre sorprese qua abbiamo trovato una macchina li conservo a caso perchè non mi va di collezionare tutte le sorprese fatte dalla maju a itali capito? le sorprese di sonic possono trovare uno su tre ma ormai i zaini non fanno più le uova di pasqua di una volta capito? di sorprese abbiamo trovato anche gli aeroplarini guardate te lo faccio vedere va bene saluto anche play 2 se mi sta guardando questo video voglio che anche lui facesse video di epimi oh un personaggio 3d di sonic abbiamo trovato non lo danneggiamo tranquilli non lo danneggiamo il personaggio non abbiamo trovato un personaggio 3d di taze ma abbiamo trovato un personaggio 3d di sonic rispetto come il video design ma c'è quello che è guarda questo è qua manca il dottor Eggman e Shadow qua i pesi sono 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sono 10 o 9 pezzi del Sonic Eagle Collection ogni lunedì vado a comprare 2 confezioni di ovetti sonic perchè gli ovetti di sonic costano meno dei Kinder Joy di Funko e i Kinder Joy di Funko quelli da 2 che prossimamente te li faccio vedere a fine ottobre a metà ottobre la serie e faremo una serie degli ovetti di sonic guardate sonic e una serie tipo episodi degli ovetti di Kinder Joy di Funko stavolta quelli da 2 va bene ragazzi iscrivetevi al canale di Paolo Paolo New e Paolo Paolo New Extra continuerò a portare tante collezioni di come fanno quelli youtuber ma porterò anche cartone animati recensioni di cartone animati youtube pop perchè Franco e Francesco li piacciono i youtube pop che faccio su di loro ma li farò anche sul canale extra di Paolo Paolo New di Franco e Francesco Fan commentate di più e voglio più like va bene ragazzi è finita con sonic per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video di collezioni PP New ogni martedì sul canale ciao a tutti tu 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 ti devi spaventare ti devi spaventare tu 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 ta 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 bu anche in bianco ta 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 bu anche in bianco ta 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 bu anche in bianco ta 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 bu anche in bianco anche in bianco